Il risultato di Gesù Il risultato vi metterà nel cuore l'umiltà, la tenerezza e la bontà di Gesù. Gesù è buono, Gesù è tenero, Gesù è umile. Questo è il vero Natale. Non dimenticatevi. Noi vogliamo contagiare la gioia nel mondo e dobbiamo dire a tutti che siamo felici perché Gesù ci ama, ci vuole bene ed è venuto per noi. Portiamo tanta speranza nel mondo e tanta pace. Gesù viene per questo.